Con il tecnico del Pescara Pilon, una buona prima parte di gara Pilon, una più che buona seconda parte dopo il gol del Verona, solo Pescara, avete avuto tre occasioni per vincere la partita, nel mezzo anche tanto Verona, è d'accordo con questa analisi? Sì, sì, perfetto, nel senso che noi abbiamo fatto 20 minuti molto bene, dove potevamo anche raddoppiare e loro poi ci hanno messo in difficoltà con il palleggio, con le presentazioni centrali, una squadra che gioca molto bene a calcio e noi abbiamo sofferto un po' questa situazione qui. Nel secondo tempo abbiamo sofferto ancora per 20 minuti, dopo un paradosso, cambi il sistema, metti 3-5-2, hai avuto tre occasioni importanti da gol, questo la dice lunga, magari uno pensa che tu fai un cambio, invece no, era proprio un cambio preciso per dare l'esità centrale, quindi tre centrali, con la ragazza del gioco sulle fasce per sfruttare i due attaccanti, che è della prestanza fisica che c'era di Bellini e Monachello, però purtroppo le occasioni le abbiamo avute ma non le abbiamo fatte. Una vittoria avrebbe praticamente quasi chiuso il discorso play-off, questo pareggio tiene tutto aperto, è chiaro che il Pescara è in piena zona play-off, però ora dopo la sosta ci saranno due partite delicate, con un Venezia in piena zona play-out e con una Salernitana che probabilmente l'ultima giornata potrebbe anche non essere sicurissima della salvezza. Eh sì, è vero, sono due partite molto difficili, come sono tutto in questo campionato, vedi poi i Carpi, sembrava che noi siamo andati lì, il Carpi è andato a Salerno e ha vinto 4-5-1, 5-2, questo la dice lunga su questo campionato, su come devi affrontare le partite. Pescara che oggi ha fatto vedere le cose migliori, lo diceva anche lei con questo schieramento del finale 5-3-2, abbiamo visto un Bellini e anche un Monachello abbastanza ispirati in attacco, questa è una buona notizia considerando la fatica che nelle ultime settimane sta facendo Mancuso. Sì, è una buona notizia perché adesso abbiamo bisogno anche di giocatori freschi, l'importante è continuare a lavorare come stiamo facendo tutti assieme per raggiungere l'obiettivo. Oggi grande atmosfera, prima, durante e dopo la partita con i tifosi. Sì, mi dispiace molto di non aver vinto la partita soprattutto per loro perché se lo meritano come meritano i miei ragazzi che hanno dato tutto sul campo, non ci si può dire niente, è stato un vero peccato. Però, guardiamo avanti, guardiamo quello che dobbiamo fare con fiducia, con ottimismo, non dobbiamo abbassare la guardia e non dobbiamo drammatizzare se mi ha parezzato quel Verona perché è stata una bella partita e i ragazzi l'hanno fatta bene. Mister, mi consenta alla fine una domanda sulle dichiarazioni del Presidente con i colleghi, ha detto abbiamo messo il pullman in difesa in alcune parti della partita, non era molto contento. Lei cosa dice? Rispetto alla sua opinione, però chiaramente ci sono anche gli avversari che sono una buonissima squadra, che giocano anche bene e ci hanno messo anche lì. Cercheremo di migliorare.